Erano 78.000 i rifugiati presenti in Italia nel 2014 e con 65.000 domande presentate il 10% avuto lo status di rifugiato, il 22% alla protezione sussidiaria e il 28% quella umanitaria. A luglio 2015 inoltre, secondo l'Eurostat, sono stati 185.000 le richieste di asilo in tutto il continente, in netta crescita rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Ad oggi a Fanno i richiedenti asilo sono 55, 32 uomini e 23 donne. Si comincia dai numeri quindi per fare chiarezza su questa tematica ed è il bisogno di conoscenza il punto di partenza dell'iniziativa denominata Donne Migranti, Cultura, Accoglienza e Integrazione. L'evento si terrà sabato 19 dicembre dalle 15.30 alle 19.30 nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fanno. Molto spesso non abbiamo le informazioni giuste, vengono distorte a volte anche dai mezzi di informazione ma anche da delle battaglie politiche che cavalcano il fenomeno e la situazione in una forma o in un'altra. Invito tutta la cittadinanza e anche l'associazionismo e le varie realtà presenti nelle condizioni di poter accedere alle informazioni più attuali ed emergenti sul fenomeno e metterci anche nelle condizioni di capire che posizione vogliamo avere rispetto a questo. Con questo evento l'assessorato alle pari opportunità e il forum dell'immigrazione intendo offrire alla cittadinanza uno strumento per capire quanto sta accadendo in Europa anche grazie alle testimonianze di chi è scappato dal proprio paese per cercare un futuro migliore. La fuga dunque sarà il centro dell'iniziativa con uno specifico focus sul ruolo delle donne e dei minori, sul coraggio e sulle loro fragilità che li rendono più vulnerabili. A coordinare la prima parte dell'iniziativa sarà l'artista di teatro sempre vicino alle tematiche sociali Roberta Biaggiarelli. Sono un'esperta dei Balcani e quest'estate ho fatto un'esperienza molto profonda sui binari al confine greco-macedone insieme ai profughi siriani raccogliendo le loro storie, le loro immagini, i loro desideri, le loro vie di fuga. Per questo sono stata chiamata dal comune di Fano, assessorato alle pari opportunità, a coordinare e mettere insieme questo convegno dove cerchiamo di fare il punto e capire da un punto di vista locale, italiano, internazionale ed europeo dove stiamo andando, che cose bene fare, non solo per il loro bene ma per il nostro bene. Questa cosa penso che sia significativa perché la cultura è il primo passo verso il cambiamento di qualche cosa perché altrimenti resteremo tutti ostaggi degli slogan troppo facili da consumare.